buongiorno amici nexus lab sono alessandro e oggi vi presento la nostra video recensione del sony xperia e1 un piccolo il piccolo in casa xperia il piccolo di nuova generazione che ha moltissime frecce al suo arco sinceramente ci aspettavamo un prodotto molto inferiore rispetto alle aspettative ma alla fine ci ha stupito in senso positivo quindi direi di iniziare dalla nostra solita apertura della scatola scatola decisamente generosa come dimensioni contrariamente allo smartphone andiamo ad aprirla volevo solo farvi vedere le tre varianti di colore disponibile bianca nera e viola allora andiamo a scoprire il contenuto al solito caricabatterie da viaggio piccolino di sony le cuffie classiche sony di ottima qualità e il cavetto usb micro usb da collegare al caricabatteria oppure usare come cavo dati qua inoltre abbiamo qualche manualino che sinceramente non abbiamo neanche aperto quindi scatola enorme per un piccolissimo smartphone come potete vedere questo è il nostro sony xperia e1 estremamente ve lo dico subito ergonomico uno degli smartphone più ergonomici che abbiamo provato negli ultimi mesi addirittura forse degli ultimi anni con delle dimensioni molto limitate abbiamo infatti un'altezza di 118 mm per 62,4 mm per 12 mm di spessore spessore abbastanza elevato ma comunque giustificato dalle dimensioni compatte del telefono materiali, materiali buonissimi siamo di fronte a materiali plastici non stupitevi però la plastica della cover posteriore è ruvida estremamente piacevole al tatto ben fatta, design che mi piace moltissimo, ricorda un po' xperia di alto profilo come gli zeta anche se forse questa sua anima colorata, questa doppia banda colorata e questa cornice più bombata è quasi 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 più gradevole il design complessivo come potete vedere la cover posteriore si stacca è abbastanza dura e non vogliamo neanche romperlo qua abbiamo la batteria, il mano per la sim e per la micro SD che è fortunatamente compresa andiamo a chiuderlo, si chiude in pochi istanti come detto è estremamente ergonomico, sul lato sinistro troviamo il connettore micro USB nella parte inferiore troviamo soltanto la fessurina per il microfono come potete vedere, qua piccolina a destra troviamo il tasto di blocco sblocco accensione e bilanciere del volume in più sopra abbiamo il tasto dedicato Walkman perché questo è un telefono dedicato alla musica come praticamente ormai solo più Sony fa e abbiamo anche un jack da 3,5 standard che è un telefono dedicato alla musica ed obbligo quindi da questo punto di vista capite perché le cuffie sono comunque di qualità un po' più elevata rispetto alla categoria di dispositivo che è di fascia bassa andiamo a sbloccarlo sin da subito i fan di Sony riconosceranno l'interfaccia con questo tipo di veneziana che ci fa da schermata di blocco sblocco schermata di blocco sblocco che ha anche i widget superiori come potete vedere scusate batteria scarica parlavamo dei widget widget nella parte alta del display abbiamo la possibilità di godere di una tendina piuttosto minima come piace a me sinceramente luminosità regolabile oppure adattabile automaticamente quindi il sensore di luminosità è presente adesso è attivo e la luminosità è stata parecchio diminuita l'interfaccia è piuttosto fluida ma prima volevo parlarvi dell'hardware hardware con gli alti e bassi del caso display da 4 pollici scusate con una risoluzione 800x480 un buon display non eccezionale naturalmente ma assolutamente buono per la categoria di prodotto comunque da prezzo molto limitato quindi display più che sufficiente limitazione invece lato hardware non a livello di SOC visto che lo snapdragon 200 di qualcomm da 1.2 ghz dual core fa abbastanza dovare il suo lavoro ma quanto per la ram ram limitata solo a 512 megabyte un po' poco nel 2014 un quantitativo così limitato di ram e lo vedremo soprattutto in alcune situazioni troviamo per fortuna uno storage che può godere dell'espansione della micro sd anche perchè la memoria disponibile già solo all'accensione di questo device è purtroppo un po' limitata ve la faccio vedere subito impostazioni memoria lo spazio totale è di 2 giga disponibile 1.14 quindi veramente pochino fortunatamente abbiamo la possibilità di installare una micro sd quindi senza nessun problema info sul telefono versione di android ancorata ancora a jelly bean possibile anzi auspicabile l'arrivo di android kitkat dato che l'ultima versione di android contrariamente a molte leggende sfrutta ancora meglio la ram e va a incidere meno sulle prestazioni per il resto ci troviamo di fronte a un dispositivo sony piuttosto classico tranne per la componente audio quindi partirei da quella dato che è un telefono che fa dell'intrattenimento audio la sua peculiarità col tastino dedicato accederemo direttamente al lettore mp3 come potete vedere e soprattutto sentire che si aprirà qua nella tendina andiamo ad aprirlo l'alettore mp3 walkman molto ben fatto non so se potete vedere il led led di stato meraviglioso questa luce in stile in stile non so alien veramente bella veramente ben fatta andiamo a vedere la lista dei brani troviamo tutta una serie di brani già precaricati sentiamo il nostro solito shakira di test e alziamo al massimo allora audio altissimo veramente spara spara un audio molto 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 alto positivo soprattutto anche per il viva voce molto superiore a tantissimi altri smartphone più blasonati si vede che lo spessore più elevato e questa e questo altoparlante più grande fanno ad avere il suo lavoro non ci troviamo di fronte qualitativamente a un audio meraviglioso nel senso non abbiamo dei bassi molto molto tonici per il resto più che buono mentre ci siamo guardiamo anche i video partirei appunto da il nostro solito avi di lost ok facciamolo partire era seduto accanto a me a quest'ora sarebbero dovuti arrivare è quasi buio allora a fretta il passo idiota ripetilo ci dobbiamo accampare come potete vedere gli avi si riproducono senza nessun problema piuttosto leggero questo avi noterete invece qualche problema nel mp4 in full hd che vi facciamo visionare adesso il telefono purtroppo non ce la fa non ce la fa semplicemente a riprodurre per fare così pesanti in full hd fa piuttosto fatica qua problema soprattutto di ram e di processore un po' limitato questo purtroppo difetta un po' la qualità totale l'esperienza dello smartphone possiamo vedere ancora il display il display che comunque si comporta bene ha un po' poco dettaglio si vede un po' di grana di pixel però per il resto la luce è veramente forte si vede molto bene anche la luce quindi niente da dire da questo punto di vista dialer dialer classico sony con la ricerca rapida dei contatti come potete vedere i preferiti e le schede qua sony tende a personalizzare sempre poco messaggi messaggi andiamo ad avviare una conversazione scriviamo un testo tastiera estremamente buona e sensibile ora abbiamo il correttore automatico ma come potete vedere il touch è veramente reattivo il feedback di vibrazione preciso e rapido una tastiera veramente ben fatta anche l'interfaccia dei messaggi a me sinceramente piace molto molto minimale ehm browser di default Sony decide di togliere qualsiasi altro browser e di utilizzare Chrome scelta giustissima andiamo su nexus lab carichiamo la pagina allora come potete vedere si riesce a navigare abbastanza bene la pagina anche durante le fasi di caricamento fase di caricamento forse leggermente lunga mentre lo scroll è da subito fluido il caricamento è un goccino lento proviamo ad aprire un ulteriore articolo qua è sempre un problema ehm dovuto alla gestione della ram più che del processore proprio la mancanza di memoria non consente una rapida ehm gestione appunto di questa che deve essere liberata per poi riessere di nuovo occupata essendoci solo 512 mega questo incide parecchio se infatti andiamo come potete vedere adesso il telefono è un attimo bloccato volevo aprire il multitasking vediamo se ce la fa sbloccarsi questo è appunto uno dei limiti più gravi di questo telefono adesso si è un attimo piantato ho preso un po' di collegamenti tutti insieme ok è andata in crash la UI di sistema speriamo riparta come potete vedere questa è la schermata del multitasking purtroppo non abbiamo un task manager che in questo caso in telefoni dove abbiamo veramente poca ram viene utile è molto bello sempre il widget di sony della galleria uno tra i migliori molto fluido pure avendo poca ram ma qua è furba sony aver creato un up scaling delle immagini un down scaling scusate delle immagini in modo da non appesantire il sistema eh volevo parlarvi un po' degli strumenti e delle app preinstallate troviamo oltre sony select con una scelta di app il track id tipo uno shazam per chi non lo conoscesse la radio fm che in un dispositivo ho votato la musica è il massimo l'assistenza xperia care che a cui potrete rivolgervi in caso di problemi soprattutto hardware o software per il telefono smart connect che ci consente di collegarci ad altri dispositivi di casa e poco altro abbiamo 100 aggiornamenti che ci dice come qua per esempio c'è un aggiornamento dell'applicazione Walkman ci aggiornerà proprio quelle applicazioni proprietarie di di sony qua a sinistra troviamo la gestione del dialer molto furba nel senso che ci lascia libero tutta la parte delle home e a sinistra ci da qualche scorciatoia e qualche filtro per le nostre applicazioni è una gestione veramente ben fatta da questo punto di vista abbiamo poi abbiamo poi poco altro nel senso che come detto sony tende a non appesantire troppo questo dispositivo che in effetti non appesantendolo riusciamo a utilizzarlo ancora abbastanza fluidamente in maniera fluida ok non vi ho parlato della fotocamera fotocamera che è un altro aspetto che ci riporta un po' in epoche passate fotocamera infatti da 3 megapixel senza flash led la mancanza del flash led incide ma soprattutto incide la scarsa potenza del sensore 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 da solo 3 megapixel come potete vedere già solo dall'anteprima della foto si vede già una grana a livello di sensore prima di fare la foto voglio farvi vedere le opzioni abbiamo lo smile shutter che scatta quando noi sorridiamo l'anteprima il timer automatico poi il microfono nei video l'avvio rapido il geotagging e poco altro non abbiamo veramente tante opzioni a livello fotografico su questo xperia e1 ok come potete vedere abbiamo fatto la foto non abbiamo l'auto non abbiamo l'autofocus sul sul var sul soggetto e manca totalmente anche quando scattiamo scan qua abbiamo l'effetto immagine abbiamo riconoscimento scena per una gestione automatica dell'immagine l'effetto immagine il manuale dove possiamo gestire pochissimi valori come la foto la luminosità e alcune alcune varianti come l'alta sensibilità ISO la modalità notturna la modalità cibi spiagge animali eccetera quindi una varietà in questo caso di scene abbastanza elevata che comunque non fa giustizia a una qualità dell'hardware della fotocamera invece un po' limitante qua per esempio abbiamo la gestione dei filtri in contemporanea gestione che su altri dispositivi abbiamo apprezzato ma come potete vedere estremamente scattosa nell'e1 quindi forse un filtro alla volta sarebbe stato più auspicabile e avrebbe ci avrebbe consentito una gestione migliore detto questo direi di passare alla eccezione l'eccezione è veramente ottima uno smartphone che prende benissimo ovunque prende molto molto bene sia in 3G che tramite rete normale wifi molto stabile adesso siamo un po' lontani dal router abbiamo il segnale assolutamente al massimo quindi niente da dire da questo punto di vista arrivando quindi alle conclusioni questo Xperia E1 è un telefono riuscito allora prima di tutto dobbiamo dire che questo telefono è possibile trovarlo anche sui 110 euro circa 110 euro è veramente poco per uno smartphone android e qua Sony sembra aver fatto un ottimo lavoro dal punto di vista del comparto audio su cui punta tantissimo e sul comparto estetico ergonomico quindi da questo punto di vista Sony ha centrato l'obiettivo per il resto si è un po' mantenuta bassa per quanto riguarda invece la ram ram troppo troppo bassa troppo poca ram e il sensore della fotocamera è veramente un ritorno a 5-6 anni fa come qualità del sensore quindi purtroppo da questo punto di vista troviamo anche degli aspetti piuttosto negativi quindi è un telefono che può accontentare magari non so vostra madre vostro padre un telefono di battaglia un telefono che può essere anche utilizzato come muletto lettore mp3 insieme dato che vi troverete benissimo da quel punto di vista manca un po' di memoria fortunatamente la micro sd c'è per immagazzinare tutta la musica che volete un saluto da Alessandro per Nexus Love